Quella che vedete è una foto che risale a 30 anni fa, è Corrado Fumagalli in maglia filanto contro la Claire Cantù. Dopo 30 anni ritorna un quarto di finale di assoluta nobiltà cestistica. Quello tra Forlì e Cantù si parte sabato ad Esio per una serie, Giancarlo, difficilissima. Ma certo non era questo il momento di affrontare Cantù anche se è bello respirare i playoff ed è bello dimostrare cosa in una serie come questa? Beh è bello dimostrare che i playoff partiamo tutti da zero, cioè non ci sono punti in classifica. Sta 0-0, ce la giochiamo. Chiaramente Cantù è un avversario difficile ma quasi tutte le squadre a questo punto sono squadre difficili. Però non dobbiamo partire battuti, partiamo con la consapevolezza che si gioca 5 contro 5 o 10 contro 10. E chi davvero riuscirà a tenere i nervi saldi per tutte le 3, 4, 5 partite secondo me alla fine avrà maggiori possibilità. Non è facile per noi ma credo non sia facile neanche per loro. Si arriva ai quarti di finale con una sorta di paradosso, lo definisco io. Perché Forlì perdendo con Mantova aveva guadagnato una posizione rassesta, vincendo a Casale Monferrato ne ha persa una ed è arrivata settima. Però sono state due facce diverse della Palacanese 2.0-15 in quelle due partite. Credo che tu ti tenga l'ultima. Sì, è un po' lo specchio di quest'anno dove sicuramente non ci è andato bene tutto. Abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto difficoltà, qualcuno anche per colpa nostra, per scelte sbagliate. Quindi non è che possiamo solo dare la colpa al fatto, dobbiamo dire che abbiamo avuto anche qualche responsabilità. Però diciamo che abbiamo affrontato una serie di alti e bassi che onestamente non erano prevedibili. Però io parto dal secondo tempo di sabato scorso, se partiamo dal di lì, giochiamo con quell'intensità, con quella durezza mentale. Io credo che possiamo togliersi le nostre soddisfazioni. Poi sicuramente Cantù è forte. Ecco, quindi ti aspetti di vedere una Forlì mordace, una Forlì determinata. Che, come diceva anche noi Renato Pasquali, abbia voglia, voglia di dimostrare quello che ha dentro. Poi ovviamente il campo darà il proprio verdetto, ma l'importante è che tutto quello che è stato un po' assimilato anche durante quest'ultimo periodo venga fuori. Eh beh, ci sono almeno tre partite. Dopo queste tre partite qui possiamo andare in ferie oppure possiamo pensare al prossimo campionato. Io nella mia testa c'è che dobbiamo e vogliamo giocare ancora. Poi purtroppo a oggi sembra che sia davvero un playoff con un inizio difficile per noi, ma io sono confidente che se durante l'anno non tutte le cose sono andate bene, magari questa volta anche un po' la fortuna può girare e avere anche qualche episodio a nostro favore. L'importante è che la Palacanesto 2.015 comunque vada a finire questa stagione, abbia la testa concentrata, focalizzata su un futuro da costruire a questi, ma anche a più alti livelli. Beh, è un po' l'obiettivo che ci siamo dati nel 2015, quando questa società che è nuova, sicuramente ha fatto un percorso importante. Dalla Serie B è arrivata in A2, un A2 con qualche alto e basso, purtroppo negli ultimi due anni non dimentichiamo che siamo stati vittimi di una pandemia che ha toccato tanti valori, ha toccato tante novità anche per noi. Ci siamo dovuti trovare, interrompere un campionato, ci siamo trovati a giocare senza pubblico che per noi è una risorsa importante, non solo economica ma anche come sostegno. Quindi sono stati anni difficili, devo dire la verità, sono stati anni difficili. Non sarà facile far ritornare le persone al Palacanesto, lo vediamo. Insomma, io se guardo le ultime partite della Fortitudo Bologna, quando credo siano dei pubblici più caldi d'Italia e più numerosi, contro Trento erano 3.200 su 5.000 passa capienza del Palacanesto. Quindi anche l'ultimo partito non erano neanche tutti esauriti. Questo significa che non sarà facile riportare le persone all'interno del Palacanesto. Però io sono convinto che il nostro progetto non possa e non debba interrompersi per questo. Dovremo fare di tutto, a prescindere da come andrà questo campionato, per farci trovare pronti all'inizio del prossimo campionato, con una società sana, che è la cosa più importante, perché noi non dobbiamo pensare solo oggi, dobbiamo pensare anche nel domani, una società sana con obiettivi ambiziosi e speriamo di trovarci con tanti oggi delle persone che sono con noi in questo team. Esatto, chiudo infatti con questo perché siamo qui da Marco Evito, partner storico, amico storico della Palacanestro forlivese. Sono tempi difficili anche per le aziende, la congiuntura dovuta anche al periodo storico, la guerra, rincare di tutte le materie prime e quant'altro, non giovane, forse non giovane anche lo sport. L'importante è avere tanti amici come Marco Evito. Assolutamente sì, è uno dei nostri partner storici, oltretutto è anche un amico, quindi ci mancherebbe altro. Noi abbiamo bisogno di tante situazioni del genere e mi auguro davvero che il sudalizio, che ha contraddistinto il nostro rapporto in questi ultimi anni, possa durare per tanti altri anni, ma soprattutto ci auguriamo di allargare questa famiglia perché solo assieme potremo raggiungere dei risultati importanti.